Siamo qui a Bruxelles perché come segretari generali delle conferenze episcopali europee sentiamo sempre di più l'esigenza di ritrovarci, di confrontarci, ma soprattutto di verificare qual è il tipo di risposta che in questo momento, sulla spinta proprio del Magisterio di Papa Francesco, stiamo dando a questa Europa, un'Europa che ha delle enormi potenzialità ma che mostra sempre di più anche delle gravi fragilità e la Chiesa come tale non può tirarsi fuori da tutto questo, abbiamo bisogno di dire qual è il surplus, il di più che può venirci dall'Evangelio, il di più che può venirci dalla testimonianza che come credenti siamo chiamati a dare rispetto a temi specifici, temi di ordine morale, temi quali l'accoglienza, temi quali anche il modello di economia e di politica che si sta portando avanti qui in Europa, se veramente tutto questo risponde a quando il Signore attraverso il Vangelo chiede a tutti quanti noi e poi lavorare, lavorare molto di più perché il credere al Vangelo diventi anche mentalità di Vangelo. Grazie.